Ma anche la storia sportiva Lezzano ha una grande vocata Falco Rupenesso E Lezzano si contendono sicuramente l'arrivo Lezzano sta riguadagnando terreno, ha una grande vocata Primo Lezzano Secondo Falco della Rupenesso Porto Ceresio Altro equipaggio del Falco Rupenesso Numero 5 per cui il primo torno Dai ancora qualche vocata perché non si è ancora passato Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti